Buongiorno, buonasera, Marco Pt, Strongman. È da un po' che sto evitando questo argomento, sarà un anno ormai che me lo chiedono. Ho sempre glissato, sempre evitato, perché non mi occupo direttamente di questa disciplina, però se interessa un mio parere da esterno, da outsider, diciamo, posso fornirlo. Premetto che non sono un praticante di Strongman, tantomeno un allenatore di questa disciplina, io mi occupo di pesi, ma non direttamente di Strongman, ok? Cosa ne penso? Allora farò qua un'analisi dopo una carrellata di video per farvi capire cos'è più o meno questa disciplina. Per esempio, Rogue, there is nothing like it anywhere in the world. Weighing over 20,000 pounds, the Wheel of Pain is constructed from 12-inch pine logs, steel, and decorative oak. And using Rogue tumblers filled with sand for resistance, it makes it hard to gain any momentum. How far can you push this medieval apparatus of torture? And that's going to be the factor here. Absolutely. It's the most epic Strongman implement in the history of Strongman. Strongman, it's massive. He's going to go! Slay at any time soon! Now he feels it! Listen to the... It's purely simple, someone to block them. This is sort of what that would look like. Typically you see in those videos the finals. The champ has looked really, looked really strong in his first throws. 70 pounds! Easily... Allora, analisi della disciplina Strongman. Chi sono gli Strongman? Chi sono questi energumini, questi rinoceronti in forma umana che spostano carichi mastodontici con tecniche pittoresche? Sono un gruppo di atleti che fanno una disciplina molto particolare. Questa disciplina è talmente particolare che secondo me ha diversi aspetti positivi e altrettanti aspetti negativi. Andiamo con ordine. Secondo me la disciplina Strongman ha due aspetti particolarmente positivi. Il primo aspetto positivo è che in tutto questo insieme di esercizi, di alzate, di prove, proprio prove tipo Sisifo, tipo le fatiche di Ercole, queste prove quasi mitologiche, si va a creare una serie di abilità sicuramente trasferibili nel mondo reale, nel mondo vero. Quindi se uno Strongman dovesse cimentarsi in un lavoro pesante, un facchinaggio, un trasloco, fare il manovale, per me avrebbe numerosi vantaggi. Magari non sull'endurance, ma anche su quella forse, perché alcune prove vanno anche a tempo. Quindi è sicuramente una disciplina molto formativa dal punto di vista della fatica muscolare applicata a sforzi veramente disumani. Come avete visto nel video ci sono prove assolutamente pittoresche. Il lancio del peso oltre una barra fissa tenuta in alto da due ritti. La Wheel of Pain, la ruota del dolore. Un macchinario assemblato da un'equipe intera che consiste nel far girare una ruota da cui escono questi pali che vanno spinti. Una ruota che peraltro non consente neanche di generare inerzia, perché ha un meccanismo che costringe una tensione muscolare costante. Proprio è il caso di dirlo. The Wheel of Pain, la ruota del dolore. Ci sono anche esercizi che vanno a richiamare le colonne d'Ercole, in cui ci sono due colonne che cadono all'esterno, tenute insieme da una catena. La catena è tenuta dall'atleta, dal gladiatore, dal gladiatore della fatica che deve stare lì in isometria più a lungo possibile. L'aspetto positivo è sicuramente, il primo aspetto positivo è sicuramente questo, la creatività mitologica, epicità di queste prove. Uno, molto spettacolari. Due, sicuramente applicabili al mondo reale. Addirittura si è visto un sollevamento di un macigno rotondo hissato sopra un pilastro. E sono soltanto alcune delle prove che costituiscono l'intera competizione. Io ho seguito un po' questa disciplina con Marius Puzianowski, che poi ha combattuto anche con un esponente della famiglia Gracie, ma non sono neanche un fruitore accanito di strongman. Ho seguito un po' Puzianowski, poi dopo, a intermittenza diciamo. Comunque le prove che avete visto nella carrellata precedente sono soltanto alcune. Una competizione, un campionato di strongman dura giorni, ok? Il secondo aspetto positivo è il clima di fair play, il clima di allegria, il clima giocoso. Per nulla, per nulla, serioso, per nulla cattivo, meschino, come in certe altre discipline. Quindi è un clima che ricorda di più magari il rugby o il crossfit, discipline che hanno costruito sul fair play, sul fare spogliatoio, una delle loro caratteristiche maggiori di appeal verso il pubblico. Viceversa, ho avuto a che fare con community legate all'allenamento, con i bilancieri, che mi hanno lasciato sinceramente una pessima impressione. Non è il caso, non è il caso degli strongman. Quindi i due aspetti fondamentali in questa disciplina sono la varietà e sono il fair play. Grande spirito di squadra, bel ambiente, positivo, allegro, con questi omoni che, pur essendo molto muscolosi, sono anche abbastanza lontani dall'ideale estetico, di vigoressia, di ortoressia, di alcuni influencer che sono sui social. Quindi si vedono persone un po' più autentiche, forse un po' più spontanee, con magari anche la pancia, la peluria diffusa e non il solito modello fitness con i boccoli biondi, il sorriso smagliante a 32 denti, le vene sui addominali, la solita posa di plastica messo lì. Quindi ecco sì, varietà, fantasia, spontaneità sono le caratteristiche migliori di questo sport. Il negativo, ci sono alcune cose anche in negativo, poi chiaramente il mio bilancio è sostanzialmente positivo, questa è una bellissima disciplina. I due fattori negativi sono in primis la difficile reperibilità e le difficoltà di assemblaggio degli strumenti di gara, del materiale. Io penso che pochissimi di noi abbiano la possibilità di farsi una home gym che comprenda, che contempli, le colonne d'Ercole, alte magari tre metri e mezzo, pesanti ciascuna, non lo so se 600-700 kg da far collassare a lato, con i cubi di spugna preposti per assorbire l'impatto. La Wheel of Pain, io non so quanti di voi ce l'abbiano, io non ce l'ho, la Wheel of Pain. Già importare dall'estero, montarsi a casa è una Wheel of Pain, dovete avere una casa enorme, forse una villa, un maneggio, non lo so. Anche le palle di roccia da essare sopra il pilistallo, sopra il pilastro, anche lì, dovete avere veramente tanto spazio e tanti soldi. Quindi il primo, magari, ostacolo è proprio la difficoltà logistica, la difficoltà pratica, ecco, nell'assemblare, nell'assemblare il luogo di pratica. Anche se comunque ci si può allenare con esercizi surrogati, per carità, certo. Sono sicuro che in Italia ci sia un nutrito gruppo di entusiasti, praticanti di strongman, che comunque riescono a fare routine, anche senza avere magari una Wheel of Pain in palestra, avranno magari molte altre attrezzature. Anche il log lift non si trova nei centri fitness, bisogna andare nelle palestre di strongman. Io non penso che siano neanche così diffuse, sicuramente esistono, ma penso che neanche nelle palestre di pesistica, di powerlifting, esista il log, il tronco con le maniglie caricato a dischi. Anche perché poi schiantare giù una roba del genere non basta neanche la pedana da weightlifting, serve proprio un materassino imbottito da entrambi i lati. Il secondo aspetto in minus, il secondo aspetto negativo di questa disciplina, secondo me è un repertorio forse anche troppo vasto. Cioè il numero di prove è veramente potenzialmente infinito. Io vedevo anche negli anni 80 Franco Columbo che trasportava un frigorifero e poi c'è il farmer walk, c'è il farmer's walk, c'è la camminata del contadino con pesi in mano, spostare automobili, chiaramente senza usare le ruote, il lancio del barile, lo stacco standard con le fasce a doppia chiusura. Ci sono un sacco di prove. Tra le più pittoresche, passando anche dalle più classiche, come appunto lo stacco da terra, l'axle press, domando scusa, non ricordo esattamente, l'Apollon Axle forse, quella specie di girata e spinta in cui si vanno a utilizzare bilancieri spessi, penso calibro 60-70 mm, non lo so. Questo eccessivo forse numero di esercizi rende difficile la codifica di una disciplina che per questo motivo forse rischia di non avere troppo appeal nel popolo, nella massa, di non essere troppo apprezzata dalla massa di persone, magari dal pubblico amatoriale, insomma, ecco, perché la pesistica ha due esercizi, strappo e slancio, il powerlifting deve ancora snellirsi, ne ha ancora tre, squat, punk, stacco, lo strongman supera, se non ricordo male, le 8-10 alzate diverse. Correggetemi se sbaglio, io qua non voglio mancare di rispetto ai praticanti, agli istruttori di strongman, non sono un addetto ai lavori, io mi occupo di pesi, ma non di strongman. Sto semplicemente fornendo quella che è la mia opinione, come da richiesta. Quindi nello strongman c'è un numero piuttosto alto di prove, che sono vere e proprie prove. Nel complesso, il mio giudizio che sia, nel complesso, dico, la mia opinione è sicuramente positiva, il mio giudizio è sicuramente positivo, è una disciplina molto spettacolare, molto divertente, molto appassionante. È sicuramente qualcosa di interessante. Ha mostrato al mondo atleti fantastici, dai tempi di Bill Kazmaier, passando per After Bjornson, finendo con Eddie Hall. Adesso attualmente ci sono altri sicuramente grandissimi campioni. Quindi sicuramente tanto rispetto e tanta gratitudine anche per l'ispirazione, almeno a intraprendere una pratica sportiva. Questo è il mio giudizio. Ultime considerazioni a livello di attrezzatura, a livello di regolamento, a livello di gear, scorpetti e quant'altro. Io non sono aggiornatissimo, vi invito a consultare il regolamento di federazione. Anche qui non voglio lanciarmi in valutazioni che non mi competono. ho espresso un giudizio da outsider. Grazie dell'attenzione. Marco Pitti, alla prossima.